Il regista turco Ferzano Ospetek, ecco chi è il marito italiano. Ferzano Ospetek e Simone Pontesilli si sono sposati nel 2016 e formano una coppia felice ed innamorata. I due si sono sposati sei anni fa con una cerimonia intima, in cui hanno invitato soltanto gli amici più cari, e di cui infatti i media non erano al corrente fino al momento della celebrazione. I due però stavano insieme già da 14 anni e quindi si può dire che il loro amore va avanti da 20 anni. Simone Pontesilli è italiano, è nato a Palestrina, in provincia di Roma, e considerando la sua riservatezza e quella di Ferzano Ospetek, non è stato reso noto cosa faccia nella vita. Sembrerebbe però che il suo lavoro non abbia nulla a che fare con il mondo del cinema, o della televisione in generale. Ferzano ha raccontato in più occasioni che l'amore con suo marito lo rende felice e che lo ispira anche per le sue opere. Infatti Ospetek ha rivelato che il suo secondo romanzo, Sei la mia vita, è proprio ispirato alla relazione vissuta con Simone e a lui. I due sono molto felici insieme ma cercano di tutelare la loro vita e la loro riservatezza senza divulgare granché sulla loro quotidianità. Nel corso di un'intervista rilasciata all'Huffington Post, Ospetek ha parlato del suo matrimonio con Simone Pontesilli, sottolineando che nonostante si sia celebrata una cerimonia nel 2016, non è stato un vero e proprio matrimonio perché non è possibile sposarsi a tutti gli effetti tra persone dello stesso sesso, in Italia. Ospetek ha comunque dichiarato, in ogni caso, che non considera Pontesilli come suo marito ma come un suo compagno di viaggio, qualcuno con cui condividere la sua vita per sempre. I due hanno sempre dichiarato di voler rimanere lontano dai riflettori e di questo se ne ha dimostrazione anche andando a guardare i loro social network. Infatti i due non condividono mai selfie né aggiornano frequentemente i fan sui loro spostamenti o sulla loro vita. È una scelta che entrambi hanno fatto e che è stata apprezzata anche da molti follower, soprattutto al giorno d'oggi. Intanto Ospetek è impegnato in questi ultimi giorni a presentare il suo nuovo film, Il Nuovo Olimpo, e sono quindi previste anche interviste in televisione in cui forse parlerà anche di Pontesilli. Voi che cosa ne pensate? Conoscevate il marito di Ferzano Ospetek e vi piace questa coppia? A voi i commenti Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Grazie per la visione!